Salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Prima di andare a parlare di nuovi personaggi vi ricordo di venirci a trovare sul gruppo Telegram Fenix PX Dragon Ball Legends dove vi potrete assolutamente sbizzarrire con noi del gruppo quindi farvi aiutare su tutto quanto, parlare del gioco e mi raccomando leggete le descrizioni sotto ogni video quindi di ogni video che faccio per trovare tutti quanti i link appunto per venirci a trovare sui gruppi Telegram ma comunque anche per tutte le collaborazioni che faccio. Vi ricordo anche che prossimamente arriverà il secondo torneo ufficiale PX di reclutamento dove il vincitore potrà allenarsi per una settimana con uno degli allenatori PX e in base alle regole poter entrare a far parte del gruppo competitivo. Cominciamo subito a parlare dei nuovi personaggi. Ci sono un paio di cose da dire su questa Ultra Space Time 12 che arriva in maniera un po' più strana del solito. Infatti i personaggi, io ho fatto anche un sondaggio, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio è stato fatto anche abbastanza tardi ieri sera ma comunque sono stati arrivati un centinaio di voti sono arrivati un centinaio di voti quindi grazie a tutti e chiedevo se secondo voi sarebbe arrivato un terzo personaggio oltre questi due SP. In realtà sono arrivati soltanto due unità SP nuove e un'unità Extreme che è Videl più poi tutte le altre SP delle Ultra Space Time precedenti ovviamente esclusa quella di GT. Diciamo che non seguiremo un ordine per parlare di questa batch perché principalmente già guardando il gioco vediamo, soprattutto per i neofiti che non sanno veramente dove mettere le mani abbiamo uno, due, tre, quattro batch appunto di quattro batch dell'Ultra Space Time 12. In ordine, parliamo di quest'ordine qua allora abbiamo la batch normale quindi quella che durerà fino all'11 di giugno addirittura lo sto vedendo adesso fino all'11 di giugno ragazzi durerà più di un mese ma molto più di un mese e quindi qui faremo tutte le nostre singole giornaliere poi abbiamo la batch che ormai è solita delle 999 Z Power cioè che se puliamo qui i tre nuovi personaggi li troviamo con 999 Z Power quindi direttamente a tre stelle comunque e le altre due batch sono una, quella tipica dei ticket dove andremo a trovare la nostra SP garantita ogni sette ticket abbiamo appunto un SP garantita quella normale e un'altra che è quella presa con il bag cioè si acquista a 9 euro un bag che ci permetterà di ottenere una SP garantita la cosa più importante che ci interessa però sono le Z Power List cioè le percentuali con cui troviamo i personaggi per la batch normale quindi 999 Z Power o comunque quella su cui puliamo e facciamo la giornaliera tutti i giorni sempre un percento per i personaggi che ci interessano di più mentre per quanto riguarda le bag a pagamento e il ticket SP garantita ragazzi si è avverato quello che io speravo non si avverasse di cui vi avevo parlato anche nel video precedente ossia non hanno aumentato il rate dei personaggi cioè io speravo che fosse sempre 50% per le nuove e 50% per le vecchie invece no è rimasto il 32-33% all'incirca per le nuove e il restante 67-68% per le vecchie SP quindi ragazzi abbiamo con il ticket SP garantito il 33% di trovare un SP nuova il resto sono tutte SP vecchie e questo è un duro colpo da buttare giù perché è una cosa che a me personalmente non piace speravo almeno aumentassero il rate andiamo velocemente allora un'altra cosa da dirvi i ticket quando facciamo il login giornaliero non saranno saranno 7 e poi altri ne dovrebbero dare se non sbaglio altri 2 con il login giornaliero e poi altri li dovrebbero dare con le missioni con determinate missioni quindi in teoria non è soltanto un SP garantita questa volta che riusciamo ad ottenere ovviamente ragazzi siccome queste cose non sono mai chiarissime il primo giorno fatemi sapere nei commenti se ne sapete qualcosa di più ma in teoria dovrebbero dare come al solito due SP garantite quindi due ticket andiamo a parlare dei personaggi li prendiamo vabbè in qualsiasi modo li prendiamo da qua sono due personaggi le due nuove unità SP sono due personaggi davvero interessanti che però secondo il mio punto di vista non attualmente non sono mostruose come comunità tuttavia io sono convintissimo che Broly avrà e dirà la sua assolutamente nel team nel team movie perché è un'unità è un'unità molto solida dal punto di vista difensivo è un'unità che sta nella top 10 delle unità difensive appunto quindi delle statistiche difensive ed è un personaggio davvero interessante sempre secondo le sue statistiche è un defense type di tipo verde quindi color verde ci sta tantissimo all'interno di un di un movie perché di verdi interessanti veramente non ce ne sono tantissimi dal punto di vista della salute ha valori molto molto alti 856.000 ricordiamo 3 stelle 498% e dei valori di attacco non estremi quindi non sono mostruosi però comunque sono molto interessanti per quanto riguarda le difese come abbiamo detto rasenta i 60.000 per lo strike defense quindi comunque sta in una top 10 per quanto riguarda le sue difese lui si porta quindi una strike e un blast con tag saian e super saian strike e blast normali come al solito abbiamo la special move che può essere anche insegnata con un 15% di danno inflitto per 15 secondi una volta che andiamo ad attivare la special move colpisce la striscia centrale quindi vedremo che non ha grandissimi effetti Broly cioè non ha cose enormi la cosa più interessante di Broly è la sua special skill la sua special skill l'avevamo già vista nel video precedente anche quando appunto crea questa sfera di energia che è quella con cui risorge dalla lava e quindi annulla gli attacchi dell'avversario esclusi attacchi ad esempio il rising rush inoltre quando l'attacco avversario ci sta cioè quando l'avversario ci sta facendo un attacco noi lo rimandiamo noi lo riusciamo a mandare a mandare indietro inoltre si hanno i seguenti effetti di upgrade per se stesso quindi dei buff per se stesso quando quando appunto Broly usa una special skill quindi quando utilizza una special skill riduce l'attacco successivo del nemico del 20% quindi il prossimo attacco qualunque esso sia da parte dell'avversario verrà ridotto del 20% questo in qualsiasi caso non sta anche se ci sono dei debuff verso Broly comunque verrà ridotto del 20% ovviamente un solo attacco dell'avversario una volta utilizzata la special skill e non si può unire quindi non è che possiamo andare a fare due special skill e avremo il 40% di riduzione inoltre abbiamo anche il più 50% di diciamo di danno della della successiva special move se il suo discorso non può essere cancellato non si può sovrapporre uno con l'altro la special skill però ragazzi appunto sappiamo che è una barriera quindi dobbiamo ovviamente il nemico ci deve attaccare e noi dobbiamo assolutamente conterare l'attacco con la barriera se no non ha effetto per quanto riguarda invece andiamo a rivedere un attimo così quando carate usa una special art ok in teoria ragazzi credo no in teoria credo che una volta attivata la special skill comunque questi effetti avvengano perché qua parla di si applicano i seguenti attributi in upgrade a se stesso quando utilizza una special art quindi quando utilizza una special art però io rimango dell'idea che quando utilizza una special art e l'avversario viene mandato indietro si attivino questi effetti con la main ability pesca una special move come carta e avrà il meno 15 al proprio costo della special move per 25 secondi quindi 35 ottimo e il più 40% di strike damage inflitto per 25 secondi quindi ragazzi è un qualcosa di davvero molto interessante anche sempre parlando in tema di carta verde unita appunto con la main ability e z ability abbiamo lo strike defense 22% a 3 stelle per quanto riguarda i saga from the movies e in più abbiamo il 23% strike e blast defense quando arriviamo a 5 stelle ormai 5 stelle con queste batch da 999 z power è sempre più semplice raggiungerle prima unica ability pesca una special art card quando quando il fantastico ragazzi questa cosa ogni volta che la sto rileggendo stamattina mi lascia sempre così pesca una special art quando Broly entra in campo di battaglia e si attiva al massimo due volte quindi si attiva 82 volte in tutta la battaglia e l'altra unica ability riduce il danno ricevuto del 50% essendo un defense come cover quindi fino a che quando andiamo a effettuare un cover fino a che la combo dura e diciamo che butta via l'avversario in butta via in lontananza l'avversario se il cover change se il cover change è stato fatto su un attacco strike quindi se l'avversario sta facendo uno strike che non abbiamo fatto il cover change noi riduciamo il danno e lancia via un po' come fa Vegeta Super Saiyan God che lancia via l'avversario infligge poi il nemico con un downgrade dell'80% in meno di recupero chi per 10 secondi quando si attiva appunto questo cover change e in più si avrà il più 5 al conteggio di sostituzione quindi invece di tornare dopo 10 secondi torna dopo 15 secondi è un'unità solida a mio avviso è un'unità molto solida davvero interessante come defense type all'interno di un team movie che diciamo giochiamocela con triplo brawley triplo brawley potrebbe essere davvero anche interessante vederlo sotto quest'ottica e potrebbe essere interessante vederlo anche come doppio brawley e Gogeta Super Saiyan ormai con i movie ci si può davvero sbizzarrire andiamo a vedere l'ultima la seconda unità che è appunto Metal Cooler che è un defense type anche lui di tipo rosso era prevedibile rosso io mi aspettavo un golden freezer rosso però vabbè magari lo sarà più avanti quando uscirà ha statistiche abbastanza basse per quanto riguarda l'attacco per quanto riguarda la difesa non è neanche il top purtroppo non è non è un defense type davvero molto molto esplosivo dal punto di vista delle difese delle statistiche difensive lui è un personaggio che diciamo se la combatte a livello appunto sempre di statistiche un po' con Zamasu quindi in top oltre il 20 di personaggi si porta una Strike e una Blast Lineage of Evil Merging e soprattutto ragazzi Regeneration mi era stato chiesto anche nei commenti io avevo detto che si sarebbe potuto fare perché in base a Big Head Regeneration lo è però magari non l'avrebbero fatto invece lo hanno fatto Strike e Blast normali li vediamo per quanto riguarda Special Move abbiamo praticamente la riduzione del Ki nemico se lo colpiamo di 70 che è tantissimo ragazzi Special Skill infligge il nemico con un downgrade del 20% di danno in più ricevuto per 20 secondi quando lo colpiamo e inoltre distrugge tutte le carte dell'avversario ragazzi figata pazzesca una gran figata Main Ability recupera la salute degli alleati del 20% e cancella tutti gli attributi in downgrade e condizioni anormali anche questa una gran figata immaginate di combattere contro Rildo contro Vegeta GT insomma contro un team che vi debaffa al massimo e noi andiamo a cancellare tutto Z Ability Lineage of Evil Blast Defense e a 5 stelle abbiamo il 33% addirittura per Blast Defense sia per Lineage of Evil che per Sagas From The Movies per quanto riguarda invece gli Unic Ability le sue sono un po' più complicate nel senso un po' più lunghe niente di che si hanno i seguenti effetti una volta che Cooler entra nel campo di battaglia recupera la propria salute del 5% niente di che però può essere interessante più 30% danno inflitto per 15 secondi e questo è ottimo più 30% del proprio recupero ki per 15 secondi mettiamolo insieme anche a Cooler Final Form e diventa molto interessante distrugge in maniera totalmente random una carta dell'avversario quando Cooler entra pensate che magari il nostro avversario ha pescato appena adesso l'ultimate e noi gliela distruggiamo e rosica come un pazzo l'ultima Unic gli seguenti effetti si hanno quando Cooler è in campo nel campo di battaglia inflige diciamo con sempre il downgrade dell'avversario pagherà più 3 alla propria strike per 15 secondi quando attiva una strike stesso discorso per quanto attiva una blast e quindi è molto molto fastidioso tuttavia è un personaggio che a mio avviso non dà una spinta incredibilmente forte al team al team ovviamente parliamo di lineage of evil non gli dà una spinta estrema non gli dà una spinta fortissima nonostante sia un personaggio che possa essere utilizzato in sagas from the movies in lineage of evil e anche in regeneration volendo quindi non è un personaggio estremo e io prevedo più un futuro rosio per quanto riguarda brawley nonostante ci siano tanti movie piuttosto che cooler ovviamente cooler attualmente si mette si utilizza se si ha si utilizza in lineage of evil che è obbligatorio con cooler final form e freezer giallo quindi un'altra space time secondo me è leggermente strana leggermente sotto tono per quanto riguarda i personaggi ma io attualmente brawley lo vorrei veramente tantissimo per giocarlo in un team anche con un po' più di equilibrio per quanto riguarda le difese ovviamente anche cooler in questo caso è un personaggio tattico un personaggio che va utilizzato che si deve sapere utilizzare ma comunque un'altra space time che durerà tantissimo abbiamo la possibilità di trovare vari personaggi ragazzi come al solito vi consiglio di non spendere crono perché tanto l'anniversario sta qui ma lo sappiamo lo stiamo ripetendo tutti i santi giorni sono state aggiunte anche il Legend Movie Saga e è tornato anche il Lineage of Evil quindi Legends Lineage of Evil dove io ho fatto anche una singola ma non è uscito niente ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questi personaggi e ci vediamo nei prossimi video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti